Aprono al pubblico fari ed edifici costieri. L'appuntamento in Puglia è con torre Castelluccia Bosco Caggioni a Pulsano, il convento San Domenico Maggiore Monte Oliveto e la torre da Iala a Taranto e il faro di torre preposti a Vieste. Dopo il successo dello scorso anno tornano infatti le giornate Open Lighthouse organizzate dall'Agenzia del Demanio e da Difesa Servizi S.P.A. con il supporto del WWF e del Touring Club italiano. A settembre e ottobre sarà possibile visitare i fari e gli edifici costieri inseriti nel bando di gara 2016 del progetto Valore Paese Fari, l'iniziativa che mira a recuperare e sottrarre al degrado i fari le torri e gli edifici costieri situati in contesti di assoluta bellezza. Cittadini, associazioni e tutti gli interessati potranno così avere accesso alle 20 strutture protagoniste del bando di gara che partirà il prossimo 15 settembre. Grazie a tutti.